Buonasera, eccoci qui per una nuova intervista Cosa posso fare per? E oggi ci occupiamo, non si capisce bene se di voci o di motori, perché il titolo è un po' ambiguo, volutamente. La nostra ospite di questa sera è un personaggio di eccellenza con un curriculum lungo chilometri e che ho avuto il piacere di conoscere in realtà personalmente, non nell'ambito della sua carriera specificatamente, ma nell'ambito della sua formazione e autoformazione, perché appunto le persone che poi ottengono risultati nella vita sono quelle che continuano a formarsi anche quando hanno già raggiunto considerevoli risultati, come nel caso di Vetti. Infatti ci siamo conosciute in un corso proprio sul public speaking tenuto da Max Formisano, con il quale io collaboro dal lontano 2007, e si è creata una sorta di affinità elettiva, una simpatia reciproca, che ha fatto sì che in questi anni, non ci siamo conosciute nel 2007, ma comunque diversi anni fa, e che in questi anni noi continuassimo a tenere un bel rapporto in continuità, così relativamente poi ai rispettivi impegni. Quindi io direi di non continuare a lodare io, ma vorrei far arrivare su questo schermo, Betti Senatore, che è una speaker radiofonica presentatrice, che è recentemente, mi sembra di capire che è abbastanza recente la novità, anche attrice. Poi ci racconterà lei se non ricordo di qualche cosa di precedente. Ciao Olivia, ciao, è un piacere. La mia insegnante che mi ha spiegato una delle cose più importanti che ignoravo del mio modo di parlare, e che mi rimane sempre nel cuore tutte le volte che lo faccio. Posso dirlo qual è? Ma certo, se lo vuoi dire sei tu quella che può avere riservo su questo. No, 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 perché io veni da te e ti dissi, ma io uso tanto le mani, e allora tu mi hai spiegato perché evidentemente hai una buona memoria visiva e tu ragioni per immagini. Però è stato un grande consiglio quello, perché da lì poi io l'ho sfruttata questa memoria a immagini, no? E quindi ti grazie, ecco, non a caso si fa la formazione. C'è da dire che appunto persone preparate come te, per chi fa il formatore, sono una bella gatta da pelare, no? Mettono comunque un po' di anza da prestazione. No, no, invece ho imparato un sacco di cose e grazie. Grazie perché è stato un corso molto importante, sì, veramente. Questo è bello e ti fa onore, tra l'altro, anche perché è bello vedere una persona di esperienza che comunque mantiene l'umiltà di voler imparare da altri, no? E non si finisce mai poi, eh? E non si finisce mai. Poi tu sei una che ha una Ferrari, quindi un po' te la potresti anche tirare, no? Ma ora il problema è come guido, ecco, ma quello non è l'argomento. Perché tu hai detto, no, non parliamo di auto, di come si parcheggiano e di come si manutengono. Per carità, parliamo di auto. Però, appunto, questa metafora della Ferrari, del motore della Ferrari, che poi non è nient'altro che la nostra voce, che in realtà più che portare a spasso noi, porta a spasso i nostri pensieri, le nostre opinioni, le nostre idee, i prodotti che vogliamo vendere. Quindi diciamo che la voce è qualcosa di anche molto identitario, no? Esatto, è unico, perché è come il polpastrello che noi abbiamo, è diverso l'uno dall'altro. Anche la voce, ogni voce è diversa l'una dall'altra. Poi magari in famiglia ci si potrà sentir dire, hai la voce identica a tua madre o a tua sorella. Sì, identica, magari sì, somigliante. D'altronde siamo cresciute nello stesso ambiente, abbiamo respirato la stessa aria e sentito gli stessi suoni. Però poi ci siamo sviluppati in maniera diversa e quindi avremo comunque una voce unica, che va saputa usare, ecco, perché si pensa che la voce non sia importante nella comunicazione, ma che sia più importante il contenuto. Io dico sempre che in realtà è importante tutto nella comunicazione. Il contenuto, per ovvi motivi, il linguaggio non verbale, ma anche la nostra voce. Cioè, devono tutti procedere in maniera parallela, proprio per dare più valore a quello che noi diciamo. Se no, ci sarebbe un contrasto. Pensa a dirti ciao, che bello vederti. Cioè, la tristezza. Esatto. Mi sembra tanto felice questa persona. E invece usare il sorriso, no? Quindi il nostro corpo per sottolineare quello che diciamo attraverso la nostra voce. Tra l'altro il sorriso, diciamo, lo spiegherai sicuramente meglio tu, però da quello che io so, fa proprio uscire una voce diversa, perché la bocca è parte della cassa di risonanza, no? Quindi a seconda della posizione in cui abbiamo la bocca, la voce esce in una maniera diversa. Per cui se io parlo al telefono con una persona che sorride, io lo sento che quella persona sta sorridendo, anche se non sta ridendo. No, no, ridere no. Però sorridere è già un canale che ti porta a un atteggiamento diverso. E io, come dico sempre, visto che faccio anche programmi alla radio, io me lo metto al sorriso. Dico sempre, il sorriso va messo come un maglione. La mattina appena vi svegliate e ve lo portate dietro. E in certi momenti è terapeutico, perché si sente e poi cambia anche la vostra mente. Se non c'è un problema grave dietro, quindi capita che noi ci svegliamo la mattina con la luna storta, no? Però se mettiamo il sorriso, paradossalmente dopo un po' noi ci dimentichiamo quello che ci stava dando fastidio. E quindi è una cura anche per la nostra mente. Quando si dice che pure il corpo influenza la mente, non solo la mente influenza il corpo. Esatto, il rapporto è bionivoco. Eh, esatto. Quindi questo sorriso io me lo metto sempre. Poi c'è chi lo usa con più facilità, chi lo usa con meno, perché poi alcuni dicono, eh vabbè ma sembra quando sorrido mi viene un ghigno. Ma no, ognuno sorride a modo suo. No, vabbè ci sono persone che si vedono anche dalle foto, che non ridono bene. Però l'importante è alzare le guance e ve lo dico, serve anche a cantare, ecco. Cioè, in qualsiasi forma di comunicazione... Sei anche cantante, non lo sapevo? No, cantante no, non esageriamo, ma siccome io amo i cori, io faccio parte di un coro da poco e quando ci dicono dovete alzare e andare verso le note più alte, mettete il sorriso e la nota in automatico esce. Più o meno in automatico, eh. Facilita l'uscita della... Ecco sì, c'è un lavoro poi di diaframma, di tutto, però sì. Più o meno aiuta. Tra l'altro appunto, adesso già citavi il diaframma, che tutti sanno che nella respirazione e quindi nell'utilizzo della voce è qualcosa di fondamentale. E infatti, appunto, mi verrebbe da dire, ok, tutti abbiamo in dotazione questa Ferrari, abbiamo detto, no? Quindi la nostra voce è come il motore di una Ferrari. Però, come ho detto anche un po' scherzosamente nel post con cui annunciavo questa intervista, certe volte, passatemi appunto lo stereotipo, la guidiamo un po' come il nonnetto, no? Che guida la panda con il cappello in testa. In generale si dice, guai a chi vedete, quando vedete qualcuno che guida quel cappello, è un trauma. Però, appunto, magari non sfruttiamo appieno il potenziale di tutti i cavalli che abbiamo a disposizione. Quindi, visto che tu con la voce ci lavori da molti, molti anni, anzi, a proposito, da quanti anni? Cioè, tu hai iniziato prima del 2000, sono più di vent'anni di carriera. Vent'anni quest'anno che lavoro con la voce, sì. E invece, vabbè, poi ho cambiato ovviamente diverse radio perché coincide il mio inizio dell'uso della voce con l'inizio della radio. Poi, nella radio si fanno anche tante altre cose. Ho fatto, sto facendo dei podcast e poi, appunto, come dicevi te, il public speaking. Però la voce è alla base di tutto, ecco. E quindi bisogna saperla usare bene, ma secondo me, la cosa più importante che ognuno di noi deve imparare a fare è respirare bene. Perché, purtroppo, noi, il nostro respiro ce lo dimentichiamo. Ed è una cosa gravissima. Tanto che io sponsorizzo, pur non essendo assolutamente pagata per farlo, Mike Maric, che è... Lo conosco. ...numero uno. Beh, c'è bisogno di... No, vabbè, magari lo spieghiamo, no? Per chi... Però, Mike Maric è un campione di apnea medico, quindi ha una competenza a 360 gradi sia come medico che come sportivo che ci insegna proprio a usare il nostro respiro in maniera giusta. E il respiro non solo ti permette di parlare bene, ricordiamoci, appunto, chi ha fatto anche un po' di canto, un po' di teatro, ma anche solo pilates o yoga, sa quanto questo aiuti nel rilassamento del corpo e quindi anche in una maggiore esposizione vocale rilassata. Ma soprattutto perché noi respiriamo da un certo punto della nostra vita solo con il torace. E quindi siamo perennemente in affanno. Infatti spesso mi viene anche detto, ma credo anche a te, sai che io arrivo alla fine del discorso e c'ho l'affanno, oppure sento la tachicardia e dico perché respiri male. Quindi la prima cosa è il respiro, che sembra grave, ma dobbiamo reimparare a farlo. Respirare quindi profondamente, usare tutta la parte addominale, concentrarci sul diaframma, che è questo piccolo, questa piccola membrana, che sembra una medusa, no? Ecco, immaginatevela in quel modo. E una medusa non è un caso, perché la medusa è morbida. Ma alle volte il diaframma si contrae nelle persone che non respirano bene, che sono tese. E lì Mike Maric, medico, come dicevo, e poi apneista, dice che si possono risolvere con la respirazione tantissimi, anche problemi fisici, dal mal di stomaco, al mal di testa, il dolore alla schiena, per non parlare dell'ansia e dell'insonnia. Cioè, paramente, eh? Sì, sì. Guarda, con questo argomento stai proprio sfondando la porta aperta, perché forse tu non sai che mio marito è istruttore di apnea. No! Ma dai! E ce l'hai in casa, allora è fatta! E infatti Mike Maric ce lo conosco perché è venuto a Cagliari, già, insomma, l'ho conosciuto quando ero a Cagliari da poco, quindi diversi anni fa, a tenere un evento divulgativo, un pomeriggio, e quindi ero andata con mio marito, per cui ho avuto anche l'opportunità di conoscerlo personalmente, non solo di fama. Mio marito studia i suoi testi, le cose che pubblica, eccetera. E proprio perché il respiro è molto importante per chi usa la voce, e io faccio corsi di public speaking, appunto, mi è capitato, per esempio, come bonus ai partecipanti ai miei corsi di offrire due, tre ore di esercizi di respirazione gentilmente offerti da mio marito. Ah, pensavo... E beh, vorrei vedere, scusami, ce l'hai in casa. Esatto. E quindi, fondamentalmente, siamo molto allineate su questo aspetto, non solo, diciamo, riguardo alle persone a cui facciamo riferimento, quanto alla tematica nel suo complesso, che è indubbiamente importante. Un po' come la benzina di questo motore, se vogliamo dire, no? Brava, esattamente così. Se tu ne metti poca, non potrai pensare di parlare, di avere una voce profonda, una voce forte, nel senso, io per forte non intendo che abbia un volume esagerato, non da mercato, ma semplicemente una voce che si estende, che ha un timbro molto profondo e poi sicuramente una voce anche più resistente, perché mettendo... Non che queste non le usiamo, perché le corde vocali, se si chiamano così, è perché servono a qualcosa, però semplicemente noi facciamo come base al nostro apparato fonatorio quello che è il diaframma e quindi è tutto più bello. E' appoggiare la voce sul diaframma. Eh, esatto, ma non solo a teatro, banalmente anche nella nostra vita, nelle nostre riunioni e poi quella respirazione, io lo dico sempre, state al computer, siete arrabbiati, siete anche in macchina stressati, vi fate queste cinque inespirazioni ed espirazioni complete, ma voi veramente vedete il mondo con altri occhi. Sì, infatti, infatti mi veniva anche da dirti, io mi rendo conto, soprattutto quando faccio giornate di aula di otto ore, come mi capita spesso, che pur avendo tanta conoscenza, avendo fatto tanta pratica, perché poi la conoscenza, se non la metti in pratica, vale a poco, mi rendo conto che alla fine di giornate lunghe comunque ho la gola stanca. Quindi, per esempio, mi sapresti, a questo punto ti sfrutto, ti chiedo in diretta un consiglio per me, mi sapresti fare qualcosa per aiutarmi ad appoggiare meglio la voce sul diafragma, parlare meglio. Sì, esatto. Esatto, bisognerebbe cercare innanzitutto di rilassare il nostro corpo. Infatti, quando anche vengono e mi dicono io ho una voce brutta, a parte che io non sono un chirurgo plastico e nessuno può intervenire sulla voce, ma non esistono voci brutte, come dice Christine Linklater, tutte le voci che escono da un corpo rilassato sono delle voci belle. Quindi noi dobbiamo prima di tutto pensare a rilassare tutto questo apparato, rilassare il nostro corpo e in questo modo rilassando il nostro corpo riusciamo appunto a non sforzare questa parte qua. Io suggerisco sempre di immaginare la voce come un fascio luminoso che esce da qui. Ora scusate, mi alzo, ma... Messo solare. Esatto, da dove sta il diaframma che è quella... Poi questa membrana che separa l'addome dalla parte superiore, dai polmoni. E lì è. Lì è come se fosse il centro del vostro corpo e della vostra voce. Quindi dimenticatevi di questa e immaginatevi che esca tutto da qua. In automatico voi sentirete una voce diversa. Perché un conto è parlare di gola. Adesso io sto parlando di gola perché non mi va, perché sono stanca, perché è così. Perché sei seduta anche, forse anche la posizione aiuta o meno. Sì, un po' sì, però in realtà se tu ti concentri e stai in una posizione, anche questa è importante, perché se stai così è chiaro che il povero diaframma mi sta un po' Si è tutto accarpacciato. Poverino. Sto po', guarda. Invece noi dobbiamo pensare a lui veramente come fonte di energia per noi e per il nostro corpo. Quindi, ecco, dobbiamo, se stiamo anche seduti in una posizione a 90 gradi gambe busto, noi già in questo modo salvaguardiamo il nostro diaframma e immaginiamo questo fascio luminoso e la voce, fascio luminoso che esce da qua e non da qua e cambia tutto. Cambia tutto. Interessante. Eh sì, sì. Poi, chiaramente per metterlo in pratica, ragazzi, non è che si impara così dal giorno all'altro, è un cambiare il nostro modo di vivere se ci pensi e quindi bisogna fare un po' di esercizi anche, però piano piano si fa tutto, lo dico sempre. A me che ho un canale visivo molto sviluppato come te, come ci sono anche confrontate. Ah, scusate, di là, no, spero, non so più come io con questa cosa, vabbè. Comunque dicevo, visto che ho un canale visivo molto sviluppato come anche tu, ce l'avamo confrontate su questa cosa, questa idea di visualizzare, di immaginare qualcosa è particolarmente congeniale. Esatto. Ovviamente non tutti, cioè questo è un esercizio sicuramente consigliabile a tutti, ma sarà più congeniale ad alcuni e meno congeniale ad altri. Esatto, sì. Quali altre pillole, no, visto che l'hashtag è cosa puoi fare per, quali altri pillole puoi dare, no, per esercitare la propria voce? Un'altra cosa importante è quella, per esempio, innanzitutto di distinguere il tono dal volume, perché anche quello ti aiuta a non spingere qua, perché il volume è la potenza che diamo alla nostra voce. Come dicevo prima, la voce da mercato e ciao! Insomma, oddio, abbiamo avuto degli esempi anche in politica abbastanza frequenti di gente che urla, ma se ci fate caso l'urlo non porta a niente, anzi porta solo a fastidio in chi ascolta. Quindi la potenza, soprattutto in una comunicazione online dove ognuno si può alzare il volume del proprio computer, ma anche in un'aula dove alle volte ci sono anche i microfoni, se l'aula è molto grande, non c'è bisogno di urlare. L'urlo per me è vietato, a meno che non stiamo in un pericolo di vita, allora va bene, ce ne freghiamo. Ok. Ci arrivano complimenti. Ciao Stefano, grazie, grazie Stefano. però dall'altra bisogna pensare molto alla tonalità, che sarebbe la nota che noi diamo a tutto quello che diciamo, quindi cercare di dare una melodia che non significa cantilena, perché la melodia è proprio una variazione di suoni, di note e quindi di tonalità, alta, bassa, 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 alta, alta, dipende poi. E così, per esempio, la mia casa che ha le finestre rosse si trova in pieno centro a Milano. La mia casa che ha le finestre rosse si trova in pieno centro a Milano, ma avrei anche potuto dire la mia casa che ha le finestre rosse si trova in pieno centro a Milano. Ok. E, capito, quindi poi dipende anche in base a gusto, però l'importante... questo esempio che hai fatto ovviamente è enfatizzato in una maniera diversa, però magari per dare un esempio acustico alle persone oltre che stai facendo tu, come si leggono le favole ai bambini, no? Esatto, la voce è quella. C'era una volta un bambino, sì, infatti io alle volte faccio fare degli esercizi in cui immaginatevi di leggere una fiaba, lì dovete per forza cambiare, ma non significa che voi dovete fare la voce da bambino, quello non è quello, è semplicemente usare tanti aspetti tanti aspetti della nostra parte vocale, perché ce li abbiamo, bisogna solo entrarci in contatto, apprezzare. E quindi questa è la differenza fra tono e volume, quindi il tono, questo discorso appunto dell'alto tasto, invece il volume e il mercato, così diamo delle mani. Esatto, il mercato, l'urlo in mezzo alla strada, sguaiato allo stadio, che poi spesso chi va alle partite il giorno dopo va alla rauco, nei concerti. Esatto, esatto, invece no, dobbiamo cercare appunto innanzitutto di eliminare il volume e di pensare alla tonalità e al timbro, quindi alla parte diaframmatica della nostra voce. Quindi già questo è una differenza importante che ci fa capire come si spinge su questa aria e poi questo suono. Altra cosa che io suggerisco sempre a tutti anche perché è gratuita è quella di leggere a voce alta perché solo leggendo a voce alta noi ci rendiamo conto di innanzitutto quello che leggiamo. Anche per noi se noi prepariamo un discorso prima leggiamolo a voce alta vi rendete conto se ci sono delle ripetizioni alle volte sfuggono se ci sono delle punteggiature messe male perché la punteggiatura è importantissima quando noi parliamo la punteggiatura ci dice l'intenzione che dobbiamo dare e siccome parliamo chi ci ascolta non vede la punteggiatura quindi noi gliela dobbiamo comunicare con la nostra voce però prima di tutto dobbiamo imparare a metterla questa punteggiatura quindi leggere a voce alta è una cosa che consiglio a tutti perché io per prima l'ho fatta per tantissimi anni per l'unione italiana dei non vedenti degli ipovedenti e dei ciechi e quindi ho imparato ho letto tanti libri e ho anche visto che ci sono libri scritti benissimo e libri scritti un po' meno bene perché hanno una sintassi complicata e quando leggi a voce alta te ne rendi conto immediatamente quindi questo è un doppio controllo però ti aiuta a fare amicizia anche con questo suono che è la tua voce che ah che è ma che so io ma sono io quella no eh non mi direi mica e invece sì noi sentiamo la voce da dentro gli altri ci sentono con le orecchie esterne e quindi chiaramente sentono la nostra vera voce ma non per questo è una voce brutta come dicevamo quindi l'intervistavo un attore regista e quindi si parlava anche di voce Giuliano Pornasi un'intervista di una decina di giorni fa e parlavamo anche di lettura espressiva lui organizza anche corsi di lettura espressiva e questo diciamo è utilissimo a chi per esempio faccia teatro ma anche appunto a chi banalmente uno pensa sempre l'oratore come qualcuno che per forza deve parlare in grandi conferenze o appunto che è radiofonica è ovvio che divi di voce però banalmente anche non dico gestire ma intervenire in una riunione di un qualunque ufficio esatto perché poi alle volte c'è anche la paura di dire la cosa sbagliata e quindi ti porta a non usare la voce con un timbro giusto quindi a parlare sottovoce e infatti poi nasce la famosa frase eh ma non mi sento nessuno mi ascolta ma perché parlo con un timbro troppo basso e lì alle volte ci sono delle cose che nascono dall'infanzia non stiamo tanto a però a prescindere da quello da come siamo cresciuti da quello che ci hanno detto alle volte basta semplicemente uno stai zitta e fai parlare tua sorella che a lunga ha portato poi a usare un volume più basso però a prescindere da quello bisogna cercare di non avere paura di questo strumento che noi abbiamo e imparare a saperlo dosare per questo che dico l'ascolto della nostra voce mentre leggiamo e poi una cosa temuta da tutti i famosi vocali eh sì i vocali allora io lo so che molti di voi diranno eh però poi io non mi sopporto o non li mando allora non dico che è una lezione dobbiamo imparare a mandarli però ad ascoltarci sì perché non sapete quanti errori si capiscono ascoltando la nostra voce quando parliamo banalmente le ripetizioni se parliamo appunto a un volume troppo alto se parliamo troppo velocemente se ci mangiamo le parole e quindi un vocale magari anche mandato a un collega quindi un vocale formale già ci fa capire tante cose di noi che potremmo già posso rivelare un mio piccolo trucco dimmi non penso di essere l'unica però io ho una chat con me stessa no anche io ce l'ho dove mi mando magari i file che mi servono che le cose che mi voglio appuntare eccetera me le tengo nella chat quindi uno può anche mandare un vocale a se stesso esatto senza dovere per esempio non sopportano ascoltarli perché preferiscono leggere magari io sto in una riunione una cosa di lavoro riesco a leggere di straforo l'audio non lo posso ascoltare oppure c'è altra gente che non sa esercitare la dote della sintesi e quindi magari ti manda audio di sette minuti e mezzo per ci mettere la vita e quindi uno può mandarsi l'audio a se stesso oppure semplicemente le note audio cioè comunque ogni cellulare ha anche un registratore e quindi uno può farsi una nota audio per esercitare la voce ad ascoltarsi ma comunque in generale se dovete preparare anche un discorso registratevi anche se non è un vocale con whatsapp ma registratevi con i telefonini i telefonini fanno praticamente tutto e se vi registrate poi vi riascoltate voi capite tantissime cose ecco quindi anche se non c'è una domanda dice io sotto stress tendo a lungiare mille parole a parlare veloce senza pausa sembra il due per di whatsapp il due per è stupendo allora sai che cosa devi fare Stefano devi parlare paradossalmente in a rallentatore io faccio fare anche degli esercizi non ci crederete ma quando vi dico di parlare a rallentatore voi parlate normalmente quindi parla a rallentatore sicuramente riuscirai ad avere la giusta velocità e poi secondo me anche l'ansia un po' contribuisce nella velocità no? perché come dicevi tu prima anche il discorso del diaframma il diaframma è strettamente collegato alle emozioni quindi facilmente quando vado in ansia lo blocco per cui non ho una respirazione profonda ma una superficiale la respirazione superficiale è più veloce nel frattempo mi parte l'attacchicardia e lì va tutto di conseguenza tutto all'aria eh no no invece dobbiamo prima di tutto respirare profondamente che si tengono i battiti dai cuori bassi il diaframma bello morbido immaginate appunto la medusa immaginate per quelli che anche un sentite un gel fra le vostre mani eh una gelatina che è morbida e così deve essere il vostro diaframma eh pensatelo così secondo me vi aiuta tantissimo cioè no secondo me vi aiuta poi si può lavorare comunque tanto di appunto di visualizzazione no comunque adesso non è l'argomento diciamo principe di questa di questa chiacchierata eh però quando si tratta di parlare in pubblico di performance anche particolarmente stressanti ognuno ha le sue cioè non è necessario dover parlare davanti a diecimila persone per essere stressati ne possono essere due anche una sola però appunto prima di un evento di questo tipo che per noi è stressogeno cominciare a fare degli esercizi di respirazione rilassante e di visualizzazione aiuta poi ad arrivare a quel momento con un livello di stress più basso che facilita il fatto di parlare a rallentatore o comunque a simile rallentatore cioè quello che a me sembra rallentatore esatto esatto perché poi quando io riascolto faccio riascoltare no ai partecipanti e dicono ah però io cioè qui parlavo e dico guarda che qui stavi parlando giusto ah per me era parlare lento eh no è parlare giusto perché noi tendiamo tutti a parlare velocemente e invece ci perdiamo tanti anche concetti tante parole che invece potremmo maggiormente mettere in evidenza e che ci permettono anche di risparmiare materiale cioè alle volte basta una parola detta bene che dieci dette velocemente mh perché perché dobbiamo riempire oppure perché dobbiamo far vedere ma se io do dieci concetti ma a chi ascolta ne rimane uno massimo due è meglio che ne dia tre ripetuti spiegati bene e approfonditi sì questa è una malattia che hanno in tanti sì per ficcare troppi contenuti uno spazio sì e poi probabilmente insomma l'hai detto fra le righe però probabilmente stai parlando anche di pause no? le pause fondamentalmente le pause io spreco il video di Barack Obama perché lui ha un uso delle pause che è veramente poetico a parte che credo William Shakespeare abbia detto la pausa è come una parola diamogli quel valore e noi dobbiamo essere consapevoli di quel valore quindi è inutile mettere parole su parole noi nella vita nella quotidianità siamo sommersi da suoni da rumori anche da parole ma usiamone anche giuste noi per primi e quando c'è una parola forte che usiamo facciamo una pausa dopo per dare valore a quella parola e per dare valore anche a noi che abbiamo scelto quella parola e che ci abbiamo pensato perché anche noi rientriamo in tutto il lavoro se no sarebbe inutile bella bella questa immagine a me sta venendo in mente qualcosa quasi tipo un eco ho detto una parola veramente importante e aspetto che il suono di quella parola finisca di dissolversi nell'aria in qualche modo finché gli altri non l'hanno memorizzato e vi assicuro che così si memorizza di più ma anche voi andando più lentamente sarete più calmi è il discorso di cui facevamo più vado veloce più respiro male ma andando più calmi e vi godete tutto quello che c'è anche gli altri sentite un po' quello che arriva da chi sta dall'altra parte che se no è monologo ciao come sto il famoso siamo pieni io e me medesimo e scelta vado a farti una domanda appunto prima accennavo recentemente anche attrice mi sembra di capire che l'esperienza sia nata da poco perlomeno io ne sono venuta a conoscenza da poco non so se prima no no io l'ho fatto tanto ma perché sì perché no allora cinema e serie tv tv no io ho fatto teatro ma perché sì che teatro lo sapevo però sì parlavo di diciamo di piccolo di piccolo schermo e di grande schermo diciamo con una diffusione maggiore perché lo possiamo dire sta per partire la terza stagione di vita da Carlo e tu sei fra gli interpreti esatto è curioso capire appunto l'uso della voce magari le differenze che hai trovato tra la recitazione e la radiofonia no ma poi fra la recitazione in una serie tv e al cinema perché le assimiliamo con la radio e con il teatro sì io mi sono accorta che in realtà a parte che ci sono dei microfoni messi in posizioni assurde perché tutti gli attori in un film o in una serie tv recitano con un microfono e la batteria viene messa alle caviglie perché avete visto in televisione alle volte si vedono sulla schiena no il trasmettitore alle volte anche con lo stesso colore del vestito però in un film o in una serie tv dove si ricalca la realtà questo non può avvenire quindi ho scoperto che le attaccano e me l'hanno attaccato alla caviglia con un adesivo sì 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 vabbè e poi ce l'avevo credo sotto che spuntava dalla camicia ma io non mi sono accorta dove era però la la modalità di quella voce lì è una voce parlata molto naturale ovviamente poi dipende da quello che deve dire il tuo personaggio però è una voce come se io parlassi con te Lilia neanche al computer dove comunque sto tenendo già un volume più alto ma nella stessa stanza accanto ti racconto una cosa e con quel volume io mi rapporto agli altri invece in teatro è completamente diverso anche se purtroppo adesso usano tutti i microfoni ma il vero attore è quello che sa portare la voce a fondo sala a fondo della sala e quindi alle volte poi tende a parlare a un volume sostenuto anche al di fuori si sente da dalla fine dei corridoi no? robe così però questo sarebbe e quindi questa è la differenza principale che l'iperlinia un po' però insomma sono abituata a usare questa voce ad alto volume anche fuori sì io pronta ero allora Carlo no no non me l'hanno detto mi sono gestita da sola perché e questa è una cosa importante di questo lavoro l'ascolto di questo lavoro sulla voce in generale l'ascolto degli altri cioè è come una orchestra che si accorda se tu senti che gli altri usano quel quel timbro tu ti devi adeguare a quello e quindi l'ascolto è uno degli elementi della comunicazione più importante l'ascolto di me l'ascolto degli altri che poi ritorniamo al famoso ciao come sto sì sempre lì finiamo e come esperienza comunque è stata bellissima anche perché io sono abituata alla radio e alle alle aule dove comunque è tutto molto veloce se ci pensi no? sì cioè poi magari hai un'aula di otto ore però comunque se passare da una cosa all'altra da un argomento all'altra paradossalmente non basta mai il tempo cioè finisci le aule che dici avessi avuto altre due ore sai quante altre cose avremmo potuto fare no? perché poi vengono degli stimoli anche e invece lì è tutto molto più lento infatti gli stessi attori dicono che il cinema è l'arte dell'attesa e quindi molti leggono durante mentre sono gli attori perché poi i macchinisti lavorano sempre i microfonisti lavorano sempre il regista anche lui sempre però molto spesso gli attori stanno fermi queste pause infinite che comunque sono affascinanti perché ti permettono di vedere quel mondo da un altro punto di vista tipo ho scoperto che quando si deve guardare in camera per una comunicazione cioè teoricamente non si guarda mai in camera però però metti che sai ovviamente il giornalista sì però metti che devi fare un monologo o comunque c'hai una cosa devi parlare e l'altro non c'è allora questi macchinisti avevano inventato di mettere un piccolo Hulk attaccato ma non dove c'era insomma la lente ma leggermente spostato così l'attore guardava lì leggermente spostato e aveva uno sguardo più naturale anche se Hulk perdonatemi ma di naturalezza io ho detto a me mi mette l'ansia ve lo dico tutto verde tutto verde era piccolino però insomma c'era e quindi questo è il trucco che si usa ma si usa anche avresti preferito un minion dai no amore sì se vuoi è solo che fa rumore capito ma non si può vabbè comunque sarebbe stato più più giusto poi dipende dal film chiaramente sì però a te veniva più congeniale come personaggio sì 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 la prossima volta portati il tuo pupazzetto e di scusate e glielo dico se ne io togliamo questo mettiamo quest'altro mettiamo mettiamo lui sì 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 assolutamente sì sì va bene però va bene Betty allora io ti ringrazio molto del tempo che ci hai dedicato della tua esperienza che hai condiviso tra l'altro come sempre mi fa piacere chi volesse contattare Betty per approfondire con lei perché ovviamente queste interviste sebbene siano delle interviste lunghe rispetto ai tempi dei social comunque in pochi minuti non è che si possa raccogliere una carriera intera e quindi fa piacere chi voglia approfondire abbia la possibilità di farlo e ovviamente sono contenta di aver avuto questa come occasione anche per per rivederci e chiacchierare con un pochino grazie Lilia grazie una cosa ci manca sì ma abbiamo un gatto con lo stesso nome è vero è vero e anche queste sono affinità che poi rimanono nella vita esatto e quindi veramente non so se vuoi lasciare tu un ultimo saluto un qualcosa di chiusura sì divertitevi paradossalmente quando si parla in qualsiasi momento vi troviate ovviamente dipende dal tipo di comunicazione gra ah grazie Lucia grazie grazie però divertitevi perché se state bene voi per divertirsi significa anche stare bene stanno bene anche gli altri e lo comunicano e si comunica quindi non dimentichiamocelo mai questo questo aspetta lo sai io la mia metodologia didattica si chiama apprendivertimento quindi questo messaggio di chiusura non potrebbe lasciarmi più felice di così è così è così è così quindi nuovamente grazie a Betty Senato grazie a te Lilia grazie è stato veramente un piacere e grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato grazie a te di nuovo e grazie a tutti gli ascoltatori e come sempre ciao e alla prossima grazie a tutti